Dopo la condanna a 4 anni e 5 mesi di Luigi Falzone, si è aperto ieri mattina il processo a carico del co-imputato Giuseppe Castorina, che ha optato per il rito ordinario. Entrambi per l'accusa avrebbero fatto parte del gruppo armato, che nel luglio del 2014 ha sparato un colpo di pistola contro il pregiudicato mascalese Sebastiano Flori. Davanti ai giudici della terza sezione penale del Tribunale di Catania, presieduta da Rosanna Castagnola, il pubblico ministero Alessia Natale ha elencato le richieste di prova, tra cui la trascrizione delle intercettazioni telefoniche e l'intera documentazione sanitaria della persona offesa. Unico testimone della difesa, come evidenziato dal difensore di fiducia di Castorina Ernesto Pino, sarà il medico legale Cataldo Raffino, la cui perizia è stata decisiva nel processo inabbreviato a carico di Falzone per la derubricazione del capo di imputazione da tentato omicidio a lesioni aggravate. Chiesta dal legale anche l'acquisizione della relazione medico-legale. Il 5 maggio, data fissata per la prossima udienza, saranno sentiti i primi testimoni dell'accusa, il comandante dei carabinieri della stazione di riposto Mario Torrisi e il maresciallo dell'aliquota operativa della compagnia di Giarre, Giovanni Caruso.